Questo è un tema che interessa moltissimi cittadini, soprattutto trevigiani, quello dell'impatto ambientale di un aeroporto in continua espansione come quello Canova di Treviso. Il 14 maggio 2007 il Ministero dell'Ambiente, dopo aver emesso un parere interlocutorio negativo in merito al master plan dell'aeroporto Canova della Air 3, comunicava allo stesso ente gestore che in caso di inadempimento nei termini indicati lo scrivente Ministero attiverà con la collaborazione della Regione Veneto e dell'ARPA Veneto tutte le iniziative di tutela che si dovessero rendere necessarie. Tra i termini indicati il Ministero vi è il limite anno di movimentazioni aeree, in particolare il suddetto parere ha stabilito che il gestore non potrà effettuare un numero totale anno di movimenti superiore a circa 16.300, riferito al 2004, anno in cui dovevano essere individuate le aree critiche derivanti dall'approvazione della zonizzazione acustica. Dal 2007 al 2015 il limite autorizzato di movimenti annuali è sempre stato superato senza alcun intervento da parte delle autorità proposte al controllo e nell'interrogazione riporto tutti i dati. Inoltre il 6 agosto del 2015 il Ministero dell'Ambiente ha archiviato l'istanza di via per il ritiro del Masterplan 2011-2030 a seguito della richiesta avanzata da Enaca. Nonostante il ritiro del Masterplan resta il limite ministeriale suscitato di 16.300 movimenti all'anno. Quindi la richiesta è quali attività di tutela finalizzate al rispetto dei limiti ministeriali sono state condotte dalla Regione Veneto e dall'ARPA Veneto in collaborazione col Ministero dell'Ambiente a seguito del suddetto parere ministeriale. Botta 5 per la risposta. Al fine di argomentare in modo puntuale e esaustivo riguardo al contenuto dell'interrogazione che ci occupa con nota protocollo 157.424 il 21 aprile 2016 i competenti uffici regionali hanno richiesto alla Direzione Generale ARPAV una memoria che delinea i contorni della vicenda così come tratteggiata dall'interrogante significando quanto segue. Dalla relazione acquisita con nota protocollo 2.213.544 del 31 maggio 2016 si rileva che per quel che concerne il controllo del rumore aeroportuale ARPAV ha effettuato le seguenti attività fonometriche. Monitoraggio del rumore nel corso del 2011 in 12 punti nel rintorno dell'aeroporto Canova di Treviso posti nei comuni di Treviso e di Quinto durante i lavori di potenziamento delle infrastrutture di volo in assenza di movimenti aeroportuali. Ripetizione del monitoraggio di cui è il punto precedente nell'anno 2012 alla ripresa dell'attività aeroportuale. Verifica condotta insieme ad Ispra nel 2013 della rispondenza del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale condotto dalla società SAVE AR3. Monitoraggio del rumore nel periodo ottobre 2013-dicembre 2014 condotto in 11 punti posti nei comuni di Quinto e di Zarobranco. Verifica di conformità delle caratteristiche del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale con misurazione in doppio presso una delle centraline gestite da SAVE AR3. Riguardo la questione relativa al numero di voli annuali, si rinvia alle conclusioni formulate il punto 5.1 del parere numero 483 del 5 novembre 2014 della Commissione regionale via in allegato a alla delibera di giunta regionale del Veneto numero 2250 del 2711-2014 laddove si rileva che l'unica autorizzazione relativa al numero dei voli è quella relativa alla sola capacità tecnica dell'aerostazione di competenza di ENAC mentre per quanto riguarda l'aspetto ambientale della situazione lo stato di fatto si rimanda all'esito del ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 29-6-2013 da parte di Aeroporto di Treviso S.P.A. Valutato che il numero di voli, pur essendo un elemento importante nella valutazione, non possa essere considerato come unico fattore per la determinazione degli impatti sulle componenti ambientali, si ritiene che le limitazioni imposte sino oggi non possono impedire a priori l'incremento proposto salvo pronunciamento del Ministero dell'Ambiente sull'esistenza di un eventuale danno ambientale. Proprio in merito a quanto appena citato, si rende noto che la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare con nota protocollo 6920 del 14 marzo 2016 ha comunicato la chiusura della procedura finalizzata alla verifica del danno ambientale ex articolo 29 del Decreto Legislativo 152 del 2006 evidenziando che Ispra, nell'ambito della citata procedura ha fornito una relazione tecnica dove si rappresenta in particolare che la mancata ottemperanza alla prescrizione relativa al tetto massimo sul numero di voli non ha prodotto un aggravio dell'impatto acustico dell'infrastruttura sul territorio. Grazie per la replica Zanoni. Grazie Presidente, grazie all'Assessore per la risposta è sicuramente una risposta molto articolata dopo Assessore le chiederò cortesemente se posso avere copia del testo anche perché in questa risposta vengono citate dei protocolli delle risposte, delle corrispondenze intercorse e viene citato un ricorso al TAR vengono citate altre lettere addirittura di marzo 2016 quindi abbastanza recenti credo comunque che la risposta non sia esauriente e soddisfacente perché si viene detto che l'ISPRA ritiene che il numero di movimenti l'anno non è l'unico fattore che determina un determinato inquinamento in questo aeroporto ma quale altro fattore determina inquinamento acustico e inquinamento dell'aria se non il numero dei veicoli che si spostano in quel dato aeroporto? Resta il fatto che l'indicazione ministeriale dalla risposta che ho avuto adesso del limite dei 16.300 movimenti l'anno non viene in ogni caso smentito quindi naturalmente sarà a mia cura andarmi a leggere le carte che lei nella risposta a questa mia interrogazione ha citato perché ritengo sia un materiale tecnico sicuramente interessante resta il fatto che in una situazione come quella del Veneto e lei assessore lo sa bene lo sa bene anche quest'aula dove siamo in procedura di infrazione per quanto riguarda la violazione della direttiva dell'Unione Europea sulla qualità dell'aria io credo che dovremmo avere massima attenzione evitare ogni nuovo incremento di inquinamento dell'aria anche perché questo sappiamo da diversi studi nuoce gravemente alla salute dei cittadini del Veneto